hi everyone bene seconda puntata secondo appuntamento nel primo video ci siamo diciamo lasciati con un po il pensiero con forse un pochino di consapevolezza in più sul perché è così importante per un bartender ad oggi più che mai ad oggi imparare a parlare inglese non ti ho detto e non ti sto dicendo che è essenziale non ti sto dicendo assolutamente che è l'unica via al mondo per fare un certo tipo di carriera ma ti sto senz'altro dicendo che è un'abilità iper importante che spesso viene sottovalutata durante il primo video anche un po ripreso diciamo alcuni dei video che ha fatto ilias contreas il co fondatore di mixology academy che nel caso non l'avessi fatto ovviamente ti invito a rivedere comunque ha fatto già dei video dove ha parlato e dove ha condiviso con te quella che è stata la sua esperienza intanto professionale proprio passata dietro banco ovviamente ha parlato anche delle sue esperienze che ha avuto come bartender all'estero a Londra altre località e più che altro ha condiviso con te con tutti quello che è ad oggi la sua visione del bartender la sua visione di quello che può arrivare a fare un bartender grazie anche alla conoscenza della lingua inglese quindi ripeto nel caso non l'avessi fatto ti invito a diciamo ricercare nei mesi passati alcuni di questi video iper interessanti il concetto comunque è questo arrivati a un certo punto diciamo della tua carriera dovrai fare una scelta quindi puoi decidere di attivarsi di fare qualcosa di concreto di cercare di adambire a un certo tipo di situazione oppure puoi decidere di rimanere rilegato al tuo paese e alla tua clientela insomma al tuo al tuo status questo devi capire un attimino se cozza più o meno bene con quello che è il tuo scopo ma questo è diciamo un altro discorso quello che invece il focus un po del video o della puntata se così vogliamo chiamarla di oggi del video che sto girando adesso nasce proprio dall'esperienza diretta mia ma soprattutto dall'esperienza di milioni e milioni di persone che avevano o comunque hanno ancora difficoltà nell'apprendimento di questa nuova lingua della lingua inglese ora tengo a precisare che mi sono presentato ho introdotto diciamo la mia figura come sono il fondatore di shake your english l'inglese professionale per bartender che ha proprio appunto formazione diretta di inglese specifica nel mondo per il mondo dei locali ma tendo a precisarti che io non sono un insegnante di inglese che quindi questo video questi video che seguiranno non vogliono insegnarti come parlare inglese quindi non è un corso di inglese ovviamente questi video vogliono semplicemente aprirti gli occhi e farti capire esattamente cosa puoi fare per migliorare la tua situazione per migliorare anche il tuo livello di inglese attraverso però la lingua inglese quindi come migliorarsi come ambire a qualcosa di più come fare un certo tipo di carriera anche attraverso la conoscenza della lingua inglese e questo è appunto un po il focus come puoi attraverso lo sblocco di una lingua una nuova lingua nel nostro caso l'inglese cambiare un po la tua situazione quindi se per anni anche per te è stato così se per anni la lingua ha diciamo voluto significare che stavi rinunciando a un certo tipo di vita a un certo tipo di opportunità lavorative a un certo tipo di esperienze oggi capiremo un po meglio appunto come cercare di risolvere un po il tutto e cercare di progredire di fare questo benedetto level up questo scalino in più allora è importante che tu da subito riesca a comprendere che per lavorare come bartender non è necessario essere un madrelingua non è necessario avere un livello di inglese certificato riconosciuto cambridge british non ci sono livelli c1 c2 quello che ti pare non è così per fare e svolgere il lavoro di bartender a pieno è necessario che tu riesca ovviamente a farti assumere ovviamente a relazionarti con lo staff ma soprattutto è necessario ti verrà chiesto di saper servire al meglio la tua clientela se riuscirai in queste tre cose in generale avrai la strada spianata quindi in realtà basta solo capire cosa ad oggi ti sta impedendo di acquisire queste competenze quindi cosa ti sta impedendo di fare sto benedetto level up e cosa sta bloccando la tua carriera al tuo paese ok cosa ti sta lasciando tenendo un pochino fermo quindi oggi indagheremo un po questo allora parto col dirti che anche io probabilmente come te e se continui a vedere questi video diciamo ho affrontato molte difficoltà nel tentativo di imparare questa questa lingua la lingua inglese anche io come bartender ho dovuto rinunciare a tantissime 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 occasioni di lavoro cosa che magari sta capitando anche a te magari anche in questi giorni per colpa proprio della mia incompetenza linguistica ma diciamo che mi rassicurava molto il fatto di non aver mai avuto nessun problema diciamo trovare lavoro a trovare un banco che mi facesse appunto lavorare ovviamente si parlava di locali che non è che mi entusiasmavano più di tanto erano locali molto spesso con una clientela fissa locali diciamo periferici locali che appunto non è che mi davano tutta questa gioia enfasi ma comunque non c'avevo problemi infatti quando ho iniziato appunto a capire che però i migliori locali le migliori situazioni migliori viaggi migliori hotel resort e quant'altro richiedevano richiedevano la conoscenza della lingua inglese allora lì mi sono sentito veramente stretto veramente mozzato come se stavo affrontando la mia carriera appunto molto molto limitato ero ovviamente costretto a selezionare il mio futuro quindi a decidere cosa fare del mio futuro in maniera iper limitata diciamo che mi stavo perdendo il grosso l'ottanta per cento come abbiamo detto nel primo video delle possibilità alle quali potevo ambire questo solo perché non conoscevo l'inglese e se fino a un certo punto questa situazione poteva andarmi anche bene quando poi ho sentito sto richiamo ho sentito questo disagio la situazione è cambiata e quindi diciamo che ciò che reputavo accettabile o che mi andava bene fino a un certo punto dopo un po mi ha cominciato ad andare proprio stretto e quindi ho iniziato a cercare di capire come risolvere e sistemare questa situazione bene quello che ho constatato durante le mie esperienze che effettivamente non è non è neanche tanto il problema che non conoscevo l'inglese perché bene o male qualche frase qualcosetta no tutti noi riusciamo più o meno di qualche frasetta ma la cosa che principalmente mi bloccava era proprio l'emozione sgradevole che mi assaliva quando non mi sentivo preparato su qualcosa molto spesso quando parliamo di lingua inglese essendomi appunto specializzato in questo ma quando si parla di lingua inglese a bloccare appunto l'apprendimento a bloccare le possibili i possibili sviluppi di imparare una lingua inglese sono semplicemente state sempre le emozioni le emozioni sgradevoli accompagnate appunto da un'incompetenza molto spesso il limite che avevo quindi il limite di non conosco la lingua era un qualcosa che diciamo che ripetevo come fosse una giustificazione come diciamo se raccontassi qualcosa che mi era stato riferito senza effettivamente testare se queste cose che mi erano state dette fossero vere o no bene il titolo di oggi è i 5 mostri che stanno bloccando la tua carriera come partender ovviamente non mi riferisco a mostri veri come forse avrei capito ma mi riferisco al tuo modo che come il mio come era il mio era un modo sbagliato di affrontare un problema evidente quello di non conoscere una parola d'inglese nel 2022 ovviamente ti ripeto parlo di mostri immaginari si parla di giustificazione se parla di paure si parla di appunto parlare tanto per sono tendenzialmente paure che escono fuori quando si ha paura quando si ha paura di apprendere un qualcosa di nuovo in questo caso una nuova lingua in particolare l'inglese e di quanto questi racconti che quotidianamente probabilmente ti fai o le persone che conosci si fanno stanno affossando e ti stanno rilegando bloccando al livello in cui sei da un punto di vista appunto professionale economico personale e quello che vuoi quindi voglio condividere con te questi cinque mostri che trasformeremo in cinque verità che ho scoperto essere proprio alla base dell'insuccesso quando parliamo di apprendere la lingua inglese queste sono mi raccomando importante verità che se ignorate in realtà stanno impedendo veramente a te stesso di realizzarti e appunto di fare un certo tipo di carriera ti ricordo che ovviamente la competenza linguistica ti dà l'opportunità di scegliere in quale paese e in quale tipologia di locale poter lavorare e vivere beh il modo migliore che hai per constatare se sei al corrente di queste verità che ti sto per dire oppure no è semplicemente controllare controllare se quello che ti sto dicendo lo applica alla tua vita quindi diciamo ti capita di raccontartelo o di parlare magari di parlarne con qualcuno devi valutare il fatto che se non parli inglese dipende da uno di questi punti oppure ci sono altri motivi nascosti ma difficilmente poi è così comunque andiamo adesso a diciamo indagare perché dico questo? perché potrebbe essere un problema magari appunto dato da una giustificazione o potrebbe essere proprio che sei pigro e che non ti va e allora è un altro discorso a me non mi interessa doverti convincere che stare sul divano non è la via giusta per realizzare il tuo scopo la tua carriera a me interessa metterti in condizione di riflettersi su di rifletterci su ok? mi interessa che inizi a pensarci un po' e valutare se appunto la tua carriera può avere dei limiti oppure no perché molto spesso iniziamo sta carriera pensando già che avremo dei limiti ma in realtà non è così abbiamo fatto una guerra e infatti iniziamo proprio la nostra battaglia giustificazione numero uno intanto non esiste genetica nell'apprendimento della lingua inglese non esistono talenti particolari non è che c'è qualcuno che nasce con la lingua inglese innata ok? è tutto nella tua testa se ti racconti anche tu sta roba ti stai giustificando io non parlo inglese perché? perché sono l'anile d'Italia e i miei non me l'hanno mai fatto studiare da piccolo io non parlo inglese perché io vivo al paesino e tutti parlano così e quindi come faccio non ho potuto imparare l'inglese io ho i genitori che so delle zappe e non parlano inglese ma io di su ma io di giù eccetera 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 questa è una cosa che ho sentito molto spesso dire anche durante i corsi di Shakespeare English dove è ma per me è difficile perché? quindi già che ti parli in questo modo ovviamente diciamo stai facendo due fatiche ora se è pur vero che in base al paese da dove provieni diciamo dal posto in cui sei venuto, sei cresciuto su sei più o meno abituato a riconoscere e decifrare determinati tipi di suoni al rispetto di altri quindi piuttosto di altri questo perché ovviamente la lingua poi ne parleremo magari nei prossimi video ma la lingua è un insieme di suoni suoni che formano parole che vengono appunto prima ricevute e poi interpretare dal cervello e quindi diciamo che la lingua inglese come ogni altra lingua alla base ha proprio la capacità di ascolto quindi se non posso ascoltare non posso neanche ovviamente parlare riprodurre determinati tipi di suoni quindi di parole quindi è ovvio che più tempo passi a contatto con un certo tipo di suono più il tuo orecchio sarà in grado o viziato appunto a ricevere e a generare un certo tipo di reazione nel tuo corpo la cosa figa, bella, del diciamo dell'essere umano del tuo orecchio in particolare è che l'orecchio può essere allenato e quindi anche se sei nato da persone che non conoscono l'inglese anche se sei nato al paese anche se sei nato figlio di capre sulla lingua ovviamente non c'è il minimo dubbio che tu possa imparare a parlare inglese numero 2 giustificazione, paura, mostro numero 2 non è vero che superata una certa età non si può apprendere una nuova lingua anche questa è un'altra bella giustificazione ora non lo so di preciso quanti anni hai può essere che ce n'hai 18 come 60 è indifferente ci sono migliaia, migliaia e migliaia di testimonianze di persone adulte addirittura nonni addirittura bisnonni che hanno imparato a parlare inglese a un'età adulta quindi come cazzo è possibile che tu continui a raccontarti che sei troppo grande e ha 30 anni per imparare la lingua inglese dove l'hai sentita sta roba? chi te l'ha detta? dove l'hai letta? per capire eh perché così magari lo leggo pure io e provo a farmi un'idea quindi voglio capire se questa roba te la racconti perché l'hai letta da qualche parte o semplicemente sta ripetendo qualcosa che qualcuno ti ha raccontato magari qualcuno proprio che neanche lui ci è riuscito e quindi di che stiamo a parlare? sappi che per certi aspetti anche se può sembrarti strano un adulto può apprendere una nuova skill una nuova lingua che ti ripeto che è un'abilità molto più velocemente addirittura di un bambino se solo imparassi ad esplorare e a divertirsi imparando la nuova lingua invece di stare a rompere i coglioni ogni volta e cercare di imparare la lingua con la testa quindi da un punto di vista intellettuale con un approccio mentale il che è sbagliatissimo e lo vedremo anche questo in seguito giustificazione o mostro numero tre non è vero che se non puoi trasferirti all'estero se non puoi fare un'esperienza fuori non puoi imparare a parlare inglese pure questa ma chi te l'ha detta sta roba? no ma l'unico modo è andare all'estero se non puoi fare un viaggio studio l'inglese non lo puoi imparare eh no ma io ho capito ma io aspetto quando potrò trasferirmi all'estero così posso passare dei mesi fuori allora lì posso imparare la lingua se no è difficile se no non ci riesco se no di sud se no di giù questo è un altro racconto fantastico un altro racconto che diciamo la tua testa genera per te proprio per giustificarti e per farti sta bello e tranquillo come per dire bravo sia giusto che non parli inglese sarei pensando che sicuramente andare all'estero è il modo più efficace ma non posso darti torto è chiaro che è così quando sei all'estero vivi un certo tipo di situazione sei a contatto con un certo tipo di esperienza corporea e mentale ma questo non voglio indagarlo adesso quello che voglio indagare è ma che succede se uno non può permettersi un viaggio studio non può permettersi di partire lasciare tutto andare fuori e imparare la lingua che succede? non posso imparare l'inglese? cioè stai aspettando di essere in condizione di trasferirti all'estero prima di iniziare a formarti? ok ti voglio avvisare semplicemente che ti stai facendo il doppio del culo che vuol dire che se aspetti prima di iniziare a formarti di avere la possibilità di farlo stai fresco stai bene così ad oggi in un mondo connesso come quello in cui viviamo è molto più semplice rispetto a qualche anno fa metterti in contatto con persone provenienti da ogni parte del mondo è possibile praticamente fare videochiamate fare delle call fare dei meeting con qualsiasi persona è possibile scoprire praticamente ogni cosa online tutto puoi ascoltare di tutto qualunque cosa in inglese esiste qualunque film quindi smettila di raccontarti che l'unico modo che hai di imparare a parlare inglese è andare all'estero mostro numero 4 quindi paura numero 4 non puoi imparare non si può imparare a parlare inglese a memoria quindi non puoi imparare a memoria le parole devi utilizzarle in conversazione più che un mostro questo è proprio un cercare di capire quando ti racconti che hai poca memoria quando ti racconti che è ma difficile ricordarmi quel termine è difficile imparare le parole perché io non le so neanche in italiano tutte le parole figurati se riesco a imparare le parole inglesi quindi se fai fatica a imparare le parole in inglese quindi fai fatica a impararle solo leggendole e poi speri di ricordartele o che ti escano fuori in conversazione beh grazie al cazzo mi stupirei se fosse il contrario come fai a pensare di imparare una nuova lingua imparare a parlarla leggendo dei termini imparandoli a memoria e boh lasciati lì ovviamente non si può imparare a parlare inglese a memoria ok il dizionario il vocabolario quindi i nuovi termini sono fondamentali se no che cazzo dici è chiaro che sono importanti il dizionario è uno strumento fondamentale ma solo per imparare queste frasette che poi andrai ad utilizzare in conversazione la chiave sta nel imparare qualcosa che subito puoi mettere in pratica subito puoi allenare qualcosa di inerente di simile al tuo scopo al tuo obiettivo ok altrimenti ma che senso ha imparare che senso ha che io imparo come si dice il canino del dente se non me frega niente non ci faccio niente quindi imparare i termini necessari e utilizzarli subito in conversazione perché se qualcosa non ha senso per te cioè se non te ne frega niente a te figurati al tuo cervello quanto è interessato a memorizzare quel termine e fartelo utilizzare quindi per ogni come per ogni altra abilità umana chiaramente anche la memoria può essere allenata e quindi pure qua è una giustificazione non riesco a imparare i termini perché stai sbagliando solo metodo esistono tantissimi modi di apprendere nuovi termini di apprendere cose nuove di allenare la memoria non so se nella tua vita ti sei mai occupato di capire e ricercare come cazzo si fa e se l'avessi fatto probabilmente già avresti trovato il tuo modo di imparare perché per l'appunto ognuno c'ha il suo mostro numero 5 non si può imparare a parlare bene inglese se non parli con chi parla inglese eh ma io non me la sento di parlare con i madrelingua perché mi vergogno eh ma io che gli dico io sono imbarazzo eh ma quello parla troppo bene io boh io sono una pippa non mi ricordo le parole non mi ricordo i termini pipipapà bene non si può imparare a parlare bene inglese se non parli con chi parla inglese dovrebbe essere chiaro come discorso è chiaro che se io voglio appunto acquisire un certo tipo di fluidità un certo tipo di appunto abilità linguistica non posso pensare di farlo da solo con i film con i libri e con la musica devo parlare con qualcuno ma non pensare che io non ti capisco io ti capisco molto bene quella sensazione di appunto disagio inadeguatezza delle volte ti confesso che mi capita ancora in alcuni contesti ok magari non a quello del bar in particolare ma in base a con chi mi relaziono posso trovarle in poste di difficoltà ma poi ricordo poi ricordo che l'unico modo reale che ho di imparare qualcosa appunto è farlo provare sbagliare fare una figuraccia essere corretti non è un problema infatti imbarazza e vergogna sono le prime cose che vanno messe via devi subito togliere se hai appunto l'obiettivo di imparare a parlare inglese ok quindi imbarazza e vergogna sono due principali responsabili dell'insuccesso soprattutto in questo settore quindi non puoi aspettare anche qua di essere un madrelingua prima di buttarti perché non accadrà mai appunto il rischio è proprio quello di stare fermi e aspetto di parlare perfettamente inglese così poi parlo con l'inglese ma quando ti succede? ma mai rischi veramente di stare fermo o ferma tutta la vita tutto questi questi mostri diciamo tutto questo per dirti che a prescindere dalla tua situazione presente a prescindere dal tuo passato dal tuo trascorso a prescindere dai tuoi genitori a prescindere dalle tue scuole poi indagheremo anche questo ma a prescindere da tutto questo puoi fare senz'altro delle azioni che ti aiuteranno a risolvere a rimediare a questa situazione una volta che risolvi sta situazione con la lingua ti puoi godere finalmente sta carriera come bartender a pieno ti puoi godere la libertà appunto che conoscere la lingua inglese associata con le skill da bartender ti danno bene ci vediamo nel prossimo video e a presto bye bye ciao a presto ciao a presto